Trapani FC, come sapete da qualche settimana Valerio Antonini è il nuovo proprietario, l'unico proprietario con le quote di maggioranza, il 100% della società FC Trapani e nonché anche proprietario della palla a canestro Trapani. Ma parliamo di calcio perché Antonini nelle ultime ore ha intenzione di acquistare lo stadio provinciale di Trapani per quando diventa lo stadio principale del Trapani FC, dunque nelle prossime settimane vedremo quello che succede. Dunque è una notizia importante, bisognerà capire nelle prossime settimane quello che succederà. Dunque ripetiamo, Antonini intenzionato acquistare lo stadio provinciale di Trapani.